Ciao a tutti, diamo inizio a questo concerto dedicato ai compositori italiani del barocco che hanno espressamente dedicato a composizioni per violoncella e in particolar modo dedichiamo questo breve concerto a quattro autori italiani, compositori italiani dall'ABAPO di cui vi farò ascoltare due capricci, Gian Battista degli Antoni di cui ascolterete una ricercata e Gabrielli, Domenico Gabrielli di cui ascolterete due ricercari che hanno, e infine ascolterete una toccata di Scipriani ho detto anche Scipriano, ho conosciuto anche come Francesco Paolo Supriani Queste ricercate, ricercari che ascoltarete stasera sono le prime composizioni probabilmente destinate al violoncello quindi rappresentano i primi pezzi espressamente destinati a questo strumento Cominciamo ad ascoltare la ricercata numero 6 di Giovanni Battista degli Antoni un musicista attivo nella città di Bologna fu attivo presso la Cappella di San Petronio nell'Accademia Filarmonica di cui divenne membro succedette al padre come trombonista alla sua morte nell'orchestra Bologna dove era prima attivo il padre quindi è conosciuto per aver suonato come puristrumentista oltre chiaramente che il violoncello aveva anche strumenti a fiato il trombone fu anche poi organista e quindi un musicista sicuramente polietrico allora, la ricercata, come suggerisce il nome stesso è una composizione analoga al preludio nel quale di tipo improvvisativo molto ampia in cui sono presenti episodi di natura contrapposta alcuni ritmici altri più cantabili ed espressivi ascoltiamo la ricercata numero 6 degli Antoni a higher avp a a a a a a a a Grazie a tutti. 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 Bene. Grazie a tutti. Buon asunto. Grazie a tutti. 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 di tutti. Grazie a 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 tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. Ascoltere a tutti. 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 a tutti.